Ammazza, sono due ore che parliamo. Abbiamo fatto il film Topolino e il prossimamente. Senta, lei qualche anno fa ha fatto a Napoli un film di Scola, Maccheroni. Volevo sapere perché secondo lei è stato accolto così male dalla critica? Ma forse, chissà, forse sinceramente non è stato il film più riuscito di Ettore Scola. Non lo so perché, boh, peccato, però è vero, per esempio è un film che è andato bene in Francia. I francesi tutti lo facciamo, non gli piace, ma forse ero scemi. No, non è vero. No, no, non è vero. Invece ecco, per esempio il cinema in Francia va molto meglio che da noi, non come opere cinematografiche, come pubblico. Perché a Parigi, a Parigi naturalmente, c'è tanti di quei giovani, di studenti, di qualche loro sempre in fila per vedere i film nuovi, i film vecchi. C'è una cultura proprio per il cinema. Comunque a Maccheroni, o possiamo dire pure Ettore, poi lo sa pure lui, andammo a fare un giro negli Stati Uniti per presentarlo. Facemmo New York, Chicago, Los Angeles, Boston, Washington, Montreal, in Canada pure finimmo. Eh, Montreal, in Canada. Insomma, 8-9 piazze, un sacco di interviste, perché gli americani avevano interviste ogni ora. Ci hanno fatto i bozzi. Sì, noi credevamo di arrivare a conquistare l'America e invece ci hanno fatto i bozzi, come dice Gigi Magni. Siamo tutti di tornare con la coda fra le gambe. E, beh, si vede che, non lo so, si vede che c'era qualcosa che, ripeto, non mi voglio sottrarre al giudizio. Sto dicendo, evidentemente, invece in quel film qualcosa non andava, perché, in fondo, la coppia era simpatia. Già Cleo Mastroianni sulla carta sembrava una bella accoppiata. Lemmo poi è un uomo adorabile, oltre che un attore squisito. È un uomo adorabile. E non ci siamo riusciti, evidentemente. Tu che l'hai visto, forse puoi dire meglio di me cosa c'era nel film che non è andato. Per esempio, in America hanno detto quasi tutte le critiche. A Dice Dice, quindi adesso un americano deve andare a Napoli per imparare a campare. Tutto questo avveniva dopo che le nostre autorità avevano fatto andare via quelli lì su Lachille Lauro. Gli attentatori là. E quindi c'era un'ondata di anti-italianismo in America impressionante. E noi ci presentammo con questo film, dove l'americano doveva venire a Napoli per imparare a vivere, per imparare a conoscere la vita. Insomma, questo era poi il significato del film. E quindi ci hanno sdelenati proprio con le critiche.